Ciao, sono Irene, mi occupo del progetto 1-2-3 Sport del Comitato WISP di Roma e abbiamo accolto questo progetto per inserire 77 beneficiari che possono appunto fare da noi un'attività sportiva, tra cui per esempio abbiamo l'attività del nuoto, l'arrampicata, il calcio, la palla a volo, il basket e abbiamo anche il parkour. I nostri utenti, questi beneficiari che abbiamo inserito, hanno una fascia d'età compresa tra i 3 e i 18 anni, quindi prendiamo un po' dai più piccoli fino ai più grandi adolescenti. Questi anni in cui sono stati fermi, i ragazzi, i bambini hanno così l'opportunità di riprendere la possibilità di fare un'attività sportiva in modo graduale e di riavvicinarsi, quindi di compassione poi allo sport che più potrebbe interessarvi anche negli anni futuri, insomma. Le ciari sono stati intercettati attraverso l'aiuto del municipio o attraverso le cooperative sociali che ci hanno dato loro dei nominativi, individuato dei nomi che potevano far parte di questo progetto. La soddisfazione è quella di vedere nei bambini, nei ragazzi la felicità di finalmente poter fare un'attività sportiva e di riuscire ad avere appunto anche un segno di aggregazione insieme a tutti gli altri loro coetani che magari fino all'anno scorso non potevano accedere e invece abbiamo dato questa possibilità a questi beneficiari e siamo molto contenti di riuscire in questo progetto.